Per scoprire l'ultima nata di casa Hyundai siamo venuti qui a Novara da clerici concessionaria. Una meraviglia questa piccolina, chiamiamola piccolina, ma è un po' riduttivo. Qui ci sono tante novità e tante cose immaginabili solo fino a poco tempo fa. Certamente, non è una piccolina perché Hyundai in questo caso sulla nuova i10 con lo slogan Go Big ha voluto dare una svolta. Non è una piccola, è una piccola delle dimensioni ma non è una vettura piccola. Pensate che quest'auto esce con i massimi standard di sicurezza, è una vettura che ha già di serie su tutta la gamma il front collision, quindi il dispositivo di antiurto frontale per riconoscimento veicoli e pedoni, il sistema di inserimento automatico degli abbaglianti, un sistema di rilevamento della stanchezza, un controllo attivo della carreggiata. Vuol dire che l'auto è in grado, in caso il cliente avesse un malore o comunque una distrazione, di mantenere la carreggiata in modo attivo, quindi non un semplice cicalino, un semplice avvertimento sonoro, ma proprio un discorso attivo. Naturalmente filosofia Hyundai ai massimi livelli per quanto riguarda la sicurezza, 6 airbag, ABS, SP, addirittura un sistema di avviso per la partenza. Pensate, una cosa incredibile, avete un'auto davanti, sta partendo, vi avvisa se chiaramente la vettura è partita e voi siete comunque sempre distratti, perché oggi la connettività e chiaramente il tempo che si passa in auto è tantissimo e la vettura ha tutti quei dispositivi che permettono sia di essere connesso ma allo stesso tempo di non rubare distrazioni all'automobilista o meglio di assistere a quelle che potrebbero essere le distrazioni quotidiane. Clerici ha più di 70 anni di storia e la storia ci porta anche a considerare che non solo auto nuove di zecca, ma auto che hanno poco di viaggio alle spalle, pochi chilometri e quindi aziendali o chilometro zero. Sì, abbiamo una disponibilità di vetture aziendali e di chilometri zero che rinnoviamo periodicamente, quindi cercando sempre di dare un'offerta al cliente, anche il cliente più esigente, sempre diversa. Prima di concludere dobbiamo anche ricordare che Clerici non è solo vendita di auto ma è soprattutto assistenza. Sì, l'assistenza è una cosa importantissima, noi abbiamo la nostra bandiera che chiaramente da anni è Hyundai, abbiamo assistenza giustamente Hyundai, poi i marchi che questa azienda hanno fatto la storia che sono Lancia e Fiat dove siamo officina autorizzata appunto Lancia e Fiat ufficiale, quindi possiamo dare assistenza ai nostri clienti che acquistano qui appunto le vetture del marchio Lancia e Fiat.